Monsignor Limina, siamo venuti qui alla mensa dei poveri per fare un po' il bilancio di questo anno che è passato e vedere come sta andando oggi. Dobbiamo dire che sono tante le persone che arrivano e non solo più persone che arrivano da altre terre, quindi non più migranti. I migranti ci sono sempre, anche se in misura minore rispetto al passato, però c'è una consistente fetta di utenti che vengono dalla nostra città e anche dai paesi limitrofi. La mensa in questo senso esprime un servizio che non guarda, non limita, ma accoglie. E' vero, un servizio che accoglie, dobbiamo dire, c'è anche attenzione verso le persone con disabilità nei confronti dell'associazione Shalom. Sì, noi ogni giorno offriamo un nostro piccolo contributo per questi nostri fratelli a cui teniamo molto e che qualcuno di loro, nei giorni in cui è chiuso il loro centro, ci fanno compagnia qui alla mensa. Non solo per risoffrire dei nostri servizi, ma anche per godere del calore di un'amicizia che ci esprime anche nello stare insieme qui in cucina con le signore che cucinano e con i nostri volontari perché un bisogno di comunicazione diventa anche un bisogno vitale di amicizia e quindi di rapporto umano. Aggiungiamo che sono tanti i volontari che vengono qui, sono veramente tanti, le cuoche diciamo che si impegnano in cucina ma anche ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare questo servizio di volontariato e di stare vicino a quelle persone che sono considerate persone, gli ultimi. Assieme alle mamme di famiglia, perché il più delle volte sono mamme di famiglia, donne che accudiscono a casa i loro familiari e che poi trovano anche il tempo per venire qui. C'è anche, ed è bello questo dirlo, ci sono anche due cuochi, due uomini che prestano il loro servizio in giorni diversi per dare anche loro il loro contributo e poi i volontari che si adoperano per il servizio proprio mensa, il servizio mensa, non solo il servizio cucina. Tra questi anche alcuni ex assistiti che ora diventano assistenti degli altri, ragazzi che spesso sono stati assistiti dalla mensa da tanto tempo, che ora hanno una stabilità qui a Crotone, vengono anche da altri paesi, però sono rimasti riconoscenti. C'è una riconoscenza che diventa anche con partecipazione degli stessi ideali che spingono i nostri volontari. C'è sempre più attenzione verso gli ultimi, ma la voglia è di dare un senso di accoglienza e di far capire che questa è una famiglia. Ecco, quello che noi vogliamo realizzare è questo, una famiglia dove c'è un posto a tavola per tutti, una famiglia dove si condividono anche le problematiche umane di ciascuno. I nostri volontari, appunto perché fanno rete, ecco con la Caritas a Diocesana, offrono un consiglio, offrono una parola amica e anche un orientamento e certe volte anche un coinvolgimento personale per coloro che ne hanno bisogno.